Enora 795, delle 16.30 per Milano centrale e partenza latinare 3, prima fermata a Torino porta sulla Milano, da Torino porta sulla Milano, mette il contrapante intervento, vetture di prima classe in testa. Milano, da Torino, da Torino, da Torino, da Torino. La Torino, da Torino, da Torino, da Torino.